Il 2024 può essere l'anno più bello della tua vita cambiando solo delle piccole cose. Oggi voglio condividere con te dei consigli, dei tips che mi hanno permesso l'anno scorso di passare un anno memorabile, l'anno più bello della mia vita. E non mi ero prefessato di diventare milionario, di essere con un fisico scolpito, beh quello un po' sì, quest'anno ci dobbiamo ripensare. Ma ho fatto delle cose che adesso ti elencherò. Prima di tutto quest'anno il 2024 deve essere l'anno dell'azione, basta rimandare ciò che abbiamo sempre rimandato e voglio fare questo ma lo faccio dopo, bisogna fare tutto adesso. Basta rimandare i sogni, beh questo lo faccio l'anno prossimo, questo l'anno prossimo ancora. Oggi dobbiamo effettivamente agire per realizzare i nostri sogni. Io l'anno scorso mi ero prefissato di visitare delle mete come Bali, New York e altre che ho visitato durante l'anno. Ce l'ho fatta, perché nel dicembre 2022 ho fatto una pazzia, in una settimana mi sono ritrasferito per la seconda volta in Australia. Perché in Australia? Perché era la meta che mi permetteva di generare denaro in una quantità di tempo davvero molto bassa per permettermi di viaggiare durante tutto l'anno. Io sono andato in Australia davvero con due spicci la seconda volta. Ok, avevo dei contatti, avevo due letante, sono riuscito a trovare lavoro in due giorni e tutto questo mi ha permesso la volontà. La fame negli occhi di permettermi di vivere in Australia una seconda volta, di trovare un lavoro, di generare denaro, tanto denaro, che mi ha permesso poi di vivere da Dio in Australia, questa seconda volta è stata pazzesca, me la ricorderò a vita, e di viaggiare durante l'anno. Tutto perché io volevo realizzare i miei sogni. Ti faccio anche un altro esempio, quest'anno finalmente ho monetizzato il mio canale YouTube. Era tre anni che ci lavoravo, non continuamente perché a causa di fare diversi lavori non puoi dedicare il 100% di te in questa piattaforma. Perché richiede tanto impegno e tanto tempo. Ma piano piano ce l'ho fatta, superando ostacoli, migliorando me stesso, migliorando i video, e soprattutto superando il primo ostacolo, l'ostacolo che avevo paura del giudizio delle persone. Io volevo aprire il canale YouTube da tantissimo di tempo, credo avevo 18 anni, 17 anni, anche più piccolo. Solo che mi bloccava questa cosa, e se non ce la faccio, e se faccio ridere, se non sono a miaggio di fronte alla telecamera, ma chi se ne fotte? Io ho superato questo ostacolo? E beh, sono grado del Simone di tre anni fa. Ricorda una cosa, i tuoi sogni sono più importanti dell'opinione delle persone. E realizzare un tuo sogno è quello che ti renderà felice, ed è quello che ti farà ricordare quel momento, quell'anno, per tutta la vita. Ok, magari tu mi dici, eh Simone io non ho un sogno, non ho passione, non so cosa fare. Beh, fai quello che ti interessa in quel momento. Non devi fare per forza quella cosa che ti metti in azione a fare per tutta la vita. Tu falla adesso. Falla per 12 settimane. Se tra 12 settimane trai le conclusioni e non hai concluso nulla, non ti piace, ho deciso di non continuare, ripeti tutto il processo da capo, fino a trovare la cosa che ti piace. Fidati che quando troverai quella cosa che ti piace e continuerai a farla giorno dopo giorno, anno dopo anno, beh, lì la tua vita cambierà davvero. Lo sto notando con i miei occhi, io ci metto tanto impegno a fare video su YouTube, a crescere questo canale da un po' di anni. Quest'anno, l'anno che è passato, nel 2023, ho caricato circa 50 video, il doppio dell'anno precedente. Ho raggiunto la monetizzazione, ho raggiunto obiettivi personali e sono fiero di quello che sto creando. E questo si può applicare in ogni cosa e questo lo puoi fare anche tu. Un'altra cosa da fare per far sì che quest'anno diventi il nostro anno, e in questo momento sto parlando a te, ma sto parlando anche a me principalmente, è di metterci in forma con il nostro fisico. L'anno scorso, siccome sono stato in viaggio, ho davvero trascurato la mia forma fisica. Per fortuna camminavo tanto, mi sono allenato qualche giorno, solo che non sono stato costante. E ricordate ragazzi, il nostro fisico influenza anche le nostre azioni. Essere in salute, essere in una forma fisica corretta, ci aiuta a spaccare tutto, ed è quello che dobbiamo fare. È difficile, è questo un obiettivo che si pongono in tanti, tutti gli anni, nessuno ci riesce, io in primis. Io il massimo che ho fatto in palestra sono stati sei mesi in tutta la mia vita, cioè costantemente, quindi bisogna cambiare un po' questa situazione. Bisogna cambiarla applicando un segreto, uno sciocco segreto. Invece di porci obiettivi assurdi, improponibili, di sacrificio e tutto, dobbiamo imporci di fare almeno tre volte attività fisica a settimana per 40 minuti al giorno. Tutto ciò rendendolo per noi divertente. Quindi basta stare in movimento. Ti piace la corsa? Fai la corsa quel giorno. Ti piace l'arte marziale? Fai l'arte marziale. Decidi un po' cosa vuoi fare, che attività. Basta che stai in movimento. Corsa, nuoto e calcio, basket. Ci sono una miriade di sport, una miriade di esercizi da fare. Scegliamo quello che ci piace fare e scegliamo il modo in cui ci rende gratificati, che ci diverte. Magari chiama quell'amico per farti due risate, magari metti la musica a palla. Scegli tu, rendiamolo giocoso. Io l'anno scorso non mi sono prefissato chissà quali obiettivi, chissà quale cose da fare. Avevo fatto una vision board. Ciò che volevo fare durante l'anno, con degli obiettivi sì, però basta che facevo quelle cose e basta che quelle cose mi portavano in un determinato punto o obiettivo o come lo vuoi chiamare tu. Per chi non conoscesse la vision board è un po' quella struttura di immagine in sequenza, un wallpaper, un'immagine, una cosa stampata. Insomma, decidi tu come fare questa vision board con tutte le cose che immagini di fare durante l'anno o che vuoi realizzare. Per esempio, l'immagine di New York, l'immagine dei soldi, l'immagine tu su una Lambo, beh, le solite cose. Io però non l'ho fatta a modo di wallpaper o scritta o stampata. Io praticamente ho scaricato un'app per iPhone che si chiama Why Vision Board, che praticamente tu qua metti delle immagini con una descrizione. Per esempio, l'immagine di New York, voglio andare entro dicembre e passare una settimana lì. Oppure io ho messo un'immagine di una figa bionda, ho detto devo conoscere una figa bionda. Beh, decidi tu cosa fare. E quest'app ti manda la notifica ogni giorno per vedere cosa hai messo in questa vision board, per ricordarti insomma. Io l'ho aperta quasi sempre quando potevo per vedere cosa avevo inserito, per ricordarmi cosa dovevo fare. Ovviamente non l'ho aperta tutti i giorni, quando potevo. Ma ragazzi, mi ha aiutato, ho fatto tutto quello che era presente in quella vision board. Gli obiettivi che avevo scritto manualmente non li ho raggiunti, ma li ho fatti. In un punto sono arrivato e sono estremamente grato. Quindi fare una vision board e ricordarsi tutti i giorni quello che si vuole fare, i tuoi sogni e ciò che ti fa svegliare al mattino è molto consigliato da parte mia. Quest'anno voglio fare qualcosa in più che ho visto fare da tantissime persone che mi hanno consigliato, che non ho mai fatto. E il journaling è il diario della gratificazione anche, cioè scrivere tutte le cose che si è gradi di quel determinato il giorno e scrivere un po' le attività che ti sono piaciuto fare o che vorresti fare. E rileggere queste parole, e rileggere queste cose che tu inserisci, inserisci giorno dopo giorno. Perché ci vuole davvero nulla a perdere il nostro focus, a perdere di vista ciò che siamo e ciò che vogliamo. Soprattutto in questo periodo di enormi distrazioni. Soprattutto questo, questo è un aggeggio malvagio. E dobbiamo usare soprattutto il meno possibile questo. Se non è per lavoro, intrattenimento va benissimo. TikTok va benissimo. Un'ora al giorno. Vedo tanti zombie usare questo in modo assiduo. Non va bene. Comunque qualche giorno ho ordinato questo da Amazon. È un diario della manifestazione. Ve lo metto anche qui o anche in bio. E vediamo, secondo me è molto carino. Ci sono cinque recensioni, però mi sembra fatto bene. Vediamo un po'. Dal sogno alla realtà. Diario della manifestazione, 90 giorni di manifesting per creare la vita dei sogni con la legge dell'attrazione. Quaderno per manifestazione mattutina e serale. Oh, fantastico. Un altro mio consiglio, ed è quello che mi è stato proprio difficile attuare, e che tuttora mi è difficile adattuare, che fa la differenza, è quello di focalizzarci su una cosa. Vuoi fare lo youtuber? Concentrati e fai solo lo youtuber. Il calciatore, solo il calciatore. Purtroppo molto spesso, se sei soprattutto un creativo, sono delle passioni, dei lavori che inizialmente non danno nulla, se non che la soddisfazione di aver creato. Nel mio caso, io parlo di youtuber, che è la mia passione, è quello che voglio fare. Non mi è stato possibile essere costante durante questi tre anni, perché ho fatto diversi lavori, sia in maniera di freelance che fisici, e soprattutto all'estero. E quello ti toglie energia sul tuo progetto, ti toglie focus, e ti fa ridardare il tuo successo, il tuo exploit. Quindi quest'anno scegliamo, se non possiamo scegliere solo una cosa, se sei giovane e vai ancora a scuola, sicuramente ti è molto più facile. Ma se sei della mia età, 25, 26, 30, ma anche 40, dobbiamo focalizzare le nostre energie molto attentamente. Per esempio, youtube, fotografia, videomaking e lavoro. Due cose, tre al massimo. Tre già soltante. Anzi, la terza dovrebbe essere mantenerci in forma, quindi la terza ce la siamo già bruciata. E tutto questo, ragazzi miei, senza stress. Godiamoci le cose, con calma, non ci sta inseguendo nessuno in questo mondo che va veloce. E niente che cadiamo nello stress, nel burnout, nel non realizzare niente. Più cose vogliamo fare velocemente, più non ne facciamo nulla. Mi hanno testato, sono stato testato su questo argomento. Creiamoci il nostro gioco, creiamoci la nostra realtà. Facciamo tutto ciò che ci piace, tutto ciò che ci immaginiamo la vita può essere per noi. Questo è un grande consiglio. E non focalizziamoci sull'avere, sul fare, sull'essere. Concentriamoci a goderci le piccole cose, giorno dopo giorno. Per esempio per me, una grande cosa che mi fa sentire ricco, davvero tanto ricco, è prendere il caffè al mattino, dalla moca. Fare il caffè e prenderlo, sorseggiarlo. Io amo il caffè e quell'abitudine, quella pratica, cioè mi rende l'uomo più felice del mondo. Io posso prendere quel caffè, avendo 10 milioni in banca non cambia nulla. È sempre un caffè della moca. Non voglio il caffè di 100 mila euro, voglio il caffè della moca. Se me lo prendessi di fronte al mare, ai caraibi, non cambia nulla. Io voglio il caffè della moca, fatto da me. Un altro consiglio che voglio darti per rendere quest'anno davvero di valore e che voglio implementare anche io, non l'ho mai fatto, è di imparare una skill che potrebbe cambiare la tua vita. Imparare o provare a impararla. Una di quelle skill, di quelle cose che hai sempre mandato perché è molto difficile o che ti mette in imbarazzo, che ci vuole davvero tanto lavoro per farla, ma che ti potrebbe davvero svoltare. Una skill che magari ho imparato anche senza volerlo e che mi ha cambiato davvero la vita, potrebbe essere quello di parlare di fronte alla telecamera, in una maniera più disinibita e anche di fronte al pubblico, della gente. Quando vloggo in giro la gente mi guarda, ma adesso non ci faccio caso e me la godo perché sto seguendo quello che voglio fare. Bene, quella è stata una skill che mi ha cambiato in passato e che mi ha reso quello che sono oggi e che sono grato di aver affrontato e imparato. E quest'anno magari potrebbe essere, anzi spero che sia, quella di parlare di fronte a un pubblico perché in camera, ok, ti senti osservato, ma hai una camera, quindi ti ci abiti facilmente, mentre parlare con cento persone, ma anche con dieci persone e raccontare o spiegare qualcosa, fare public speaking, beh là, te la fai sotto. Quella è una skill davvero importante per me che mi può cambiare la vita e che mi può svoltare. Mi piacerebbe, soprattutto in un teatro, fare un mio show o uno show di formazione. Sarebbe fantastico, anche perché a me piace mischiare la formazione con il divertimento, con delle battute. Sono io alla fine. Quindi per quest'anno facciamolo insieme. Scegliamo una skill da imparare, creiamo un progetto su quella skill e realizziamo quel progetto entro fine anno. O almeno pratichiamo quella skill entro fine anno. Ok, ultimi due consigli. Questo mi sembra molto ovvio, ogni anno tutti se lo propongono. Quello di fare soldi, quello di raggiungere centomila, un milione, tre milioni, decimilioni. Fare soldi. Non possiamo negare che fare soldi ci fa aumentare la qualità della nostra vita. Nel mio caso mi permette di viaggiare, mi permette di fare esperienze, mi permette di realizzare i miei sogni. Quindi decidi che quest'anno devi fare soldi. Se sei giovane, da 18 ai 20, 24 al massimo, ti consiglio di non mettere obiettivi monetari. Solo quello di fare soldi per realizzare i tuoi sogni o i tuoi progetti. Da 25 ai 26 in poi ti consiglio di previstare degli obiettivi monetari, 1000, 2000, 10 milioni, 3 milioni. E cercare di raggiungere, perché i soldi decidono anche come sarà il nostro futuro. Quindi mettiamocela tutta per fare più soldi possibili quest'anno o più soldi per realizzare i nostri sogni. Tra l'altro lavoro, viaggi, realizzare i sogni e lavorare viaggiando sono dei temi che parlo su questo canale e che approfondirò principalmente quest'anno. Quest'anno voglio far realizzare sogni che abbiamo in comune io e te che stiamo parlando. Magari può essere il travel o il guadagnare online o conoscere posti, gente, persone, storie, divertirsi. Voglio che affrontiamo questo cammino insieme. Piano piano sto realizzando questo progetto e voglio condividerlo insieme a te. E infine, non per importanza, che ti consiglio di attuare perché è la cosa più semplice di questa lista, sono le micro abitudini. Piccole abitudini che ci possono svoltare sia il giorno, giorno dopo giorno, sia la settimana che l'anno. Le micro abitudini che possiamo implementare sono davvero tante e sono uno strumento davvero prezioso sulla produttività e sul miglioramento della nostra vita. Le micro abitudini possono essere andare a letto e dormire quelle 7-8 ore decentemente con aiuti tipo melatonina o integratori vari, limitare il consumo giornaliero di luce blu, disattivare le notifiche al cellulare mentre stiamo facendo qualcosa di importante e di produttivo, svegliarsi alle prime ore di luce del giorno e assumere fonti di vitamina D come il sole, uscire a farsi la passeggiata e avere il sole direttamente in faccia, un boost di energia alla mattina. Un'altra micro abitudine che mi ha svoltato è che quando sto con un mood davvero pessimo metto quella musica, quella playlist che mi fa cambiare di mood e ritornare in cammino. Sono cose che ho imparato durante questi anni e che magari faccio un video dedicato perché sono davvero tante e magari ti possono aiutare davvero tanto. Quindi iscriviti, hai solo da guadagnarci a quanto pare. Tutti questi consigli sono frutto delle mie esperienze, della mia esperienza e delle mie ricerche durante tutti questi anni. Quindi io ti posso assicurare che se metti in pratica almeno uno, due, tre di questi consigli nei prossimi 12 mesi avrai dei risultati, avrai dei progressi. Quindi se non l'hai già fatto prendi carta e penna e prendi i consigli che più ti aggradano, più che ti piacciono e che si addicono alla tua persona. Facciamo sì che quest'anno, il 2024, sia finalmente il nostro anno. Io voglio fare doppietta e l'anno prossimo tripletta. Daia!